Oh, salve. Non ci credo, non ci credo. Mi sono scaricato a fare service 2, ma qualcuno mi dice di pagare. Quindi, oggi per saltezza, lo facevo anche a scuola, Pasquale Sasso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao e benvenuti al tuo nuovo lavoro, il nuovo in New World, Freddy Fazbear's season. Mi sono scaricato nel periodo di Natale. L'anno sta finendo, già. Ehm, questo è già lontano, perché c'è questo problema. Brutto. Brutto. Allora. 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 Cosa? Mi ha raffreddato. Mi ha raffreddato. Sfiole. Cosa? Lì. Cosa? Eh, questo è un nuovo cappolavoro che dovrei farsi. Atenzione Non ci ha dato un culo di Non ci ha dato niente problemi E' che sono ancora agrobato Non ci ha dato un po' di essere Ma ho fatto un po' di essere Ma ho fatto un po' di essere Ma ho fatto un po' di essere Un po' di essere Scusate Tantissimo abbiamo una soluzione più facile vedete, potrebbe essere un minore glitch in il sistema qualcosa per i robot che bisogna usare un endoskeleton senza un costumo è la più grande che provo a essere le aste a casa lì bella prova attenzione attenzione oh oh no che è? 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 sembra... oh, non c'è un graffo dato c'è là, c'è là la chitarra no scu.. no cacchio no, 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 no 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 oh no oh 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 no 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 oh no che farò oh 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 no 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 complicato oh oh no 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 oh no oh no 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 oh 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 oh non ci oh no 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 che cosa quella non ci la posso fare cavolo oh non 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 Cosa? 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 Penso che eri due... Sera bene, peccato. Cosa? Cosa? Purtroppo è già così. No no, oggi è il 28 dicembre del 2017. Questo sarebbe ancora un grande terbore. Cosa? Cosa? Cosa?